Il primo sms ricevuto da un cellulare gsm porta la data del 3 dicembre 1992 e fu inviato dall'ingegnere britannico Neil Papworth usando un computer. Il testo era un semplicissimo Merry Christmas, un numero esiguo di caratteri al massimo 160 dettato da stringenti ragioni tecniche e tecnologiche. Partiva così la stagione delle abbreviazioni, frasi e concetti dovevano essere ridotti all'osso per non sforare e si adottavano le tecniche di scrittura sintetica fra le più fantasiose. Così le vocali sparivano mentre la K veniva digitata al posto del CH e la X al posto di PER. Poi sono arrivate le chat di Whatsapp, Messenger e similari con l'aggiunta degli emoticon a suggellare la fine di emozioni e sentimenti esplicati attraverso parole e sguardi. Basta una faccina e tutto è chiaro, anche il concetto più complesso viene riassunto in modo stitico ma tutto sommato efficace. Ed è così che il linguaggio ai tempi dei social si fa sempre più immediato, sintetico, verrebbe da dire economico. Ci si sforza meno e il concetto arriva ugualmente, anche se la fretta nel digitare i messaggi porta inevitabilmente ad errori sia grammaticali che refusi, seguendo un po' quell'atteggiamento generale che in chat e sui social non c'è nessun bisogno di conformarsi alle regole di ortografia. Testi brevi e lessico stringato hanno cambiato di fatto il linguaggio dei social nel tempo, impoverendo inesorabilmente le conversazioni. Lo dicono gli esperti che, dall'altra parte, rilevano però un'introduzione costante di nuove parole, mutuate dall'inglese o da neologismi, come googlare, di cui anche l'Accademia della Crusca si è dovuto ormai fare una ragione.